Perché studiare l'architettura oggi? Alla città del futuro, come questa si può evolvere, insomma. E io credo che come sempre, per usare una grande sintesi, come diceva Adolf Loos, l'architetto è un muratore che ha studiato il latino. Ecco, questa mi sembra, io credo, una sintesi più bella di questo mestiere, insomma. Cioè, una persona che sa costruire, ma sa anche perché costruisce. Quindi, come dire, c'è sempre un aspetto di tipo teorico-critico, un aspetto tecnico, che contraddistinguono questo mestiere. Quindi la componente umanistica e quella tecnico-scientifica sono assolutamente fondamentali.